Il Sulmona Calcio 1921 delinea le basi per la nuova stagione che partiranno dalla scuola calcio sino ad arrivare alla prima squadra. Resta però da risolvere la grana delle vertenze presentate dagli ex allenatori Antonio Mecomonaco e Aldo Di Corcia e dall'ex preparatore atletico Silvio Pellegrini per un ammontare complessivo di circa 15.000 euro. L'attuale dirigenza è in contatto con l'ex presidente Maurizio Scelli al fine di provvedere per tempo alla sistemazione pena la non ammissione al prossimo campionato. Ai tre componenti dell'ex staff tecnico della Serie D il presidente Giovanni Di Girolamo ha proposto una transazione per giungere ad una soluzione conveniente ad entrambe le parti. Vedremo quali saranno i risvolti e partito intanto il conto alla rovescia per la presentazione ufficiale della documentazione occorrente al Comitato Regionale Abruzzo della Federcalcio entro il 24 giugno. Questa scadenza è indicata nel comunicato della FIGC per le domande di fusione. Da indiscrezioni sembrerebbe infatti che ci sia l'intenzione di prendere il titolo di una società della provincia dell'Aquila, Goriano o Cerchio, e fondersi con una scuola calcio locale per continuare a giocare a Sulmona. L'operazione consentirebbe di ripulire le situazioni pregresse ripartendo da zero. Bocche cucite dai rappresentanti della società che stanno definendo gli ultimi dettagli per allestire un nuovo progetto tecnico sportivo per dare vita ad una realtà calcistica a Sulmona con forte valenza territoriale. E' scritto così in una nota a firma del presidente di Girolamo che preannuncia la conclusione di accordi con società locali e provinciali che saranno presentati in una conferenza stampa dopo il 24 giugno. Daremo il via ad un nuovo progetto con sinergiche competenze calcistiche professionali, conclude la nota, partendo dalla scuola calcio sino ad arrivare alla prima squadra di Sulmona che militerà ad oggi nel campionato di promozione e, come ci auguriamo, qualora venga accolta la nostra richiesta di ripescaggio, possa partecipare al prossimo campionato di eccellenza abruzzese. Sul fronte allenatore la scelta dovrebbe avvenire tra l'ex campione del mondo argentino, Pedro Pablo Pasculli, e Roberto Cau, ex calciatore del Sulmona dal 2011 al 2013 fino al ritorno in Serie D, con esperienze successive come collaboratore tecnico del Savona in Lega Pro. Per quanto riguarda i giocatori, si profila il ritorno in bianco-rosso dello storico capitano Alfredo Romeo e dell'attaccante Vittorio Contestabile.